con Repescia ancora più curiosa quella poi due mesi dopo di cambiare ulteriormente allenatore il risultato è che adesso Bucchi e Repescia sono al massimo livello del campionato italiano e l'Eurolega per la Polonia la fa un'altra squadra è la giusta punizione direi comunque ecco io Bucchi l'ho avuto come coach quindi lo ricordo molto bene ma vorrei raccontare un aneddoto su coach Repescia è una persona che ho apprezzato molto perché mi ricordo nella fase finale proprio quella di cui parlavi te Repescia era l'allenatore dell'allora Fortitudo e dopo l'ultima partita che giocammo a Bologna venne a chiedermi scusa perché a quel tempo in vista la mia nota scarsa mano ai tiri liberi c'era l'opzione di fare fallo ogni volta che prendevo in mano la palla lui alla fine della serie è venuto a chiedermi scusa per aver adottato questa tattica da quel giorno per me Repescia è una grandissima persona Lecce Ricci invece del Lecce Sheck me lo ricordo non gli hai regalato il naso da clown come fece Sheck con Don Nelson no no anche perché il naso finto ce l'ha già suo addosso altri motivi di interesse per questa partita ci sono degli ex uno degli ex è proprio quello inquadrato in questo momento ovvero sia Cittadini qui vediamo un Cittadini un po' più giovane con la maglia della Fortitudo esibirsi in una clamorosa schiacciata per festeggiare definitivamente un memorabile successo in Eurolega un 2 a 0 contro il Real Madrid Cittadini che alla Fortitudo ha avuto in totale in campionato 15 presenze per due minuti totali due punti e un tiro ovviamente realizzato questo canestro con Real Madrid comunque è un bellissimo ricordo per Cittadini e il motivo nel motivo di questa partita è Cittadini da una parte e resta all'altra non ci sono solo le grandi novità i datomi, i belinelli, i bargnani eccetera eccetera ci sono anche giocatori come in questo caso del 79 o dell'80 che sono pronti, che sembrano pronti a fare l'ultimo salto di qualità e quindi buone notizie per Carlo Recalcati anche Cittadini così come per Res come avevamo detto all'inizio sta giocando un ottimo inizio di campionato ha delle cifre veramente, veramente buone e stasera dovrà dimostrare ancora una volta di più di essere un giocatore in più per Coach Bucchi e per la sua squadra Cittadini che sta tirando in maniera assolutamente impressionante se ne facciamo una questione di quella che noi chiamiamo percentuale reale tra virgolette, quella ovvero sia che attribuisce un valore maggiore al tiro da tre punti per il semplice banale motivo che se va dentro vale un punto in più Cittadini viaggia col 91,7% ovvero sia l'irrealtà totale infatti oggi Coach Bucchi voleva schierarlo come guardia e probabilmente se la sarebbe cavata anche in quella maniera invece parte da numero 5 da centro vicino a Dansu Sisei che finora è il maggior punto di domanda in casa Carpisa c'è Green da alla piccola per la fortitudo che rilancia nel quintetto dopo gli esperimenti di inizio stagione con Fulze il titolare del ruolo ovvero sia Key Wayne Garris Dola ad alzare la palla 2 l'unica della partita che viene controllata da Napoli Stephanson per Lynn Greer contro la difesa dell'Archimamio che subito cerca di tenere su un lato il miglior giocatore dell'Eurolega di tre stagioni fa almeno se ne facciamo una questione di punti segnati eccolo qui l'uomo da tempo con il suo classico movimento molto bravo nel cosiddetto kicky move ovvero sia un passo indietro e arresto per poi mandare a bersaglio i primi due punti di questa partita il gioco chiamato dall'altra parte da Garris per Lacrimamio Bagaric perso da Cittadini che deve recuperare la posizione viene lasciato uno contro uno se la cava Stephanson si stacca all'ultimo momento Bagaric cerca un perno un po' complesso per le sue possibilità di frazione di passi l'avevamo detto all'inizio sarà molto importante per Napoli ogni tanto così a sorpresa come stava facendo Stephanson cercare un raddoppio su Bagaric c'è pressione per Lacrimamio e anche questo è un classico soprattutto nei primi cinque minuti di partita in questo inizio di stagione per Repesha Morandè schiaccia per terra Berling Greer pick and roll in corsa con Ansu Sisei attacca Greer vuole forzare forza e subisce il fallo da parte di Keyway Garris ripeto attenzione a questo giocatore che non sempre ha una visione perfetta del campo che non è un playmaker nel senso classico ma che con la palla in mano sa molto spesso cosa fare e questa volta l'ha dimostrato per Garris sarà molto importante a mio modo di vedere e io non sono ovviamente l'allenatore della fortitudo però sarà cercare di forzarlo verso destra lui è un mancino quasi purissimo fa fatica un po' a usar la mano destra sarà importante per lui appunto cercare di impedirgli di usare sempre la mano sinistra Greer che a Biel ha avuto anche una risavventura con un dente che gli si è spezzato e gli è stato restituito dal suo allenatore Piero Bucchi è comunque in campo come vediamo a giudicare dall'inizio al 100% delle sue possibilità ancora cercato Bagari Cittadini gli lascia un angolo di ricezione e poi decide di saggiare la capacità balistica dalla lunetta del centro croato il tema della partita quello doveva essere quando la Clima Mio ha la palla e finora quello è si è giusto cercare Bagari c'è una differenza di chili e centimetri tra lui e Cittadini che permette di cercare il centro della fortitudo con insistenza come ha fatto in queste prime due azioni ed è quindi anche importante in chiave Clima Mio che Bagari si metta in condizione di giocare minuti Bagari che viaggia a una media di falli che è parametrata su una partita intera di 40 minuti e di 9 abbondanti quindi non sempre in condizione di giocare tanti minuti proprio per i problemi di falli cui facevamo riferimento Rez rimane incollato ad Ansu Cisei in blocco di Cittadini l'uscita per Stefansson altro blocco per Lindgrir che gioca a 2 con Cittadini ecco il triangolo con Ansu Cisei non salta sulla finta molto bene Thomas Rez ma Cisei di talento puro inventa un gran canestro ha inventato un canestro rinunciando a un quasi comodo tiro da 3 per cercare un impossibile tiro da 2 Gheris inizio che pulizia che pulizia questo giocatore Stefansson non ha ancora commesso un errore anche in questo caso un tiro perfetto ottima la scelta di tempo mette pressione su Nate Green faccia a faccia Morandè con Bellinelli che lo attacca ultimi 10 secondi dell'attacco clima mio situazione di motion con Bellinelli che prende un tiro morbido lo sbaglia rimbalzone di Bagaric e anche Cisei dice facci vedere come tiri liberi Dalibor in questo caso visto che l'arbitro comunque ha dato rimessa da fondo c'è da dire che si sta facendo sentire molto bene sotto canestro Bagaric il fallo di Cisei è precedente all'azione di tiro questo movimento di Cisei per un numero 4 ovvero sia per un ala forte malissimo non è esattamente ancora pressione di Stefansson su Green poi il classico gioco chiamato proprio con questo gesto vieni su e il picker all'alto con l'angolo di blocco cambiato all'ultimo momento resta la mano calda in questo inizio di campionato anzi non calda bollente bravissimo rest senza paura ha preso un tiro perfetto da 3 direi che non gli manca certo la faccia tosta anche a lui 9-5 eccellente inizio di partita tra due squadre che hanno ovviamente ambizioni assolute quelle della Clima mio fondate quelle della Carpisa di prendersi una posizione subito ridosso del vertice sfidato Bagaric da parte di Greer c'è quella leggera sproporzione fisica che alla fine gioca per l'ex dei Bulls molto buona la transizione offensiva pessima quella difensiva invece il tiro di Greer è facile poi in campo aperto ci sarebbe Stefansson il gioco viene fermato perché è rimasto a terra dall'altra parte lo vedete Thomas Ress per lo meno molto doloroso il contatto che lo ha coinvolto speriamo che finisca lì la storia mentre andiamo a rivedere quello che è successo ecco Ress in contatto con Cittadini i due compagni dell'oro dei giochi del Mediterraneo involontariamente coinvolti in questa azione assolutamente fortuito il colpo ricevuto da Ress ha preso una ginocchiata sicuramente non è contento di averla ricevuta sarà dolorosissima dicevamo di Thomas Ress della sua mano calda del suo eccellente momento 8 punti 7 rimbalzi 2 assist con 2 su 2 da 3 in 26 minuti di utilizzo contro Livorno 20 di valutazione interessante il fatto che questo signore Yasmin Repesha di Ares che teoricamente ha cominciato la stagione come quarto lungo della rotazione 26 minuti e il quintetto base la partita dopo coach Repesha è bravissimo secondo me a dare fiducia ai giovani lo ha fatto con Mancinelli lo ha fatto con Belinelli lo sta facendo adesso con Ress che purtroppo deve lasciare il campo ed è veramente un peccato nativo di Bolzano ma ci ricorda il nostro Pietro Nicolodi in realtà cresciuto a Buchholz diciamo non esattamente un paese che ricordi New York né per gomero di abitanti né per ritmo di vita ed è quindi ancora più rimarchevole che Ress e la sorella di Ress siano due nazionali di basket che provengono da una cittadina così piccola si torna a giocare con il possesso per la Carpisa il palleggio per Lynn Greer l'uscita per Sisei anticipo totale su Morandè da parte di Belinelli in un duello molto interessante fisicamente Sisei può giocare un pick and roll con cittadini da palleggiatore come fanno per esempio i lunghi dei San Antonio Spurs questo non è un lungo però la mano la sa usare e anche molto bene in questo caso Green ha commesso il capitale errore di stargli a un metro troppo indietro gli ha lasciato lo spazio per prendere un tiro che lui ha preso comodamente da tre sale l'intensità difensiva della Carpisa arriva la deviazione sul tentativo di assist di Bagaric c'è Lorbeck in campo al posto di Thomas Rez blocchi per Belinelli la sua finta a bocca Morandè il fiore è buono ma sbagliato cittadini nel traffico contro Lorbeck controlla in due tempi apre per Stefansson che va in mezzo nella transizione va fino in fondo e subisce un fallo che viene giudicato antisportivo da parte di Seghetti adesso credo vedremo le immagini e ci faremo un'idea del discorso antisportivo non antisportivo prima la proprietà di palleggio e la forza fisica da parte di Stefansson presumo che questo venga giudicato fallo antisportivo in quanto contatto di violenza eccessiva e non necessaria e non certo in quanto fallo fatto senza l'intenzione di giocare la palla diciamo che questa decisione comunque non mi trova assolutamente d'accordo perché è un fallo di gioco stava andando a tirare semplicemente ha fatto un gesto un po' troppo evidente Bagaric comunque sia voglio rimarcare ancora una volta l'intelligenza cestistica di Stefansson ha preso la palla ha percorso tutto il campo è andato dentro ha visto che Bagaric era un po' in ritardo è andato dentro e ha tirato da sotto bravo Stefansson non solo in questa situazione e non solo per le due triple che sono comunque naturalmente la cosa più interessante che ha fatto in questo inizio di partita sei punti due rimbalzi un recupero ma io rimango con quello che abbiamo detto all'inizio di questa partita ovvero sia non è un giocatore che dipenda solamente dalle cifre perché fa molte cose che si vedono meno e che non finiscono sullo scout anzi fino a questa partita il tiro da fuori era stato forse la statistica peggiore per questo giocatore questo inizio di partita lo sta smentendo questa cosa e sta giocando anche con delle cifre molto molto buone lui come dicevamo all'inizio è molto importante per l'equilibrio della Carpisa va detto che fino a questo momento assente il signor Morandè Reykjavik la città di nascita per Stefansson che i primi passi li ha mossi proprio con il KPR di Reykjavik che poi ha giocato a livello liceale negli Stati Uniti in California con Artesia High School che è un liceo molto prestigioso per la pallacanestro parleremo della sua esperienza in California anche perché c'è un paio di storie abbastanza interessanti al riguardo palleggio per Greer schiaccia per terra per Cisei blocco di cittadini uscita proprio per l'islandese che decide di non scaricare su Greer ma di andare sul lato di Morandè vediamo se questo aiuta a mettere l'ex giocatore di Colorado in partita pasticcia invece con la palla Morandè mette nei guai i cittadini che riesce a uscire nei guai con un gran numero di mano sinistra bravissimo veramente ha visto Bagaric venire verso di lui di conseguenza perdere l'equilibrio finta un palleggio e tiro incredibile di sinistro 5.35 per chiudere il primo quarto e adesso questi 16 punti segnati 11 di vantaggio per la Carpisa significano benzina psicologica anche per difendere meglio per andare come dicevamo al di là dei propri limiti difensivi Stefano contro Grini il pick and roll con Bagaric accetta il cambio all'emergenza cittadini ancora Morandè con un pessimo recupero si fa bucare ma poi si chiude la difesa al centro dell'area Lorbeck ha un movimento debole infrazione di passi brutta partenza anche a livello di linguaggio del corpo dei campioni d'Italia e invece ottima partenza difensiva da parte della Carpisa che da questo lato del campo sembra lontanissima parente della squadra che ha giocato le prime quattro partite sicuramente lontanissimissima parente di quella che ha giocato in primo quarto molto male a Biella Garris mette pressione Greer vuole farsi largo il fischio di Chiari è per un fallo in attacco di Lynn Greer ci sta abbondantemente e soprattutto è un monumento all'inutilità soprattutto perché è fatto a forse meno di 3 centimetri dall'albitro Chiari adesso il duello a parti invertite con Greer in difesa e Garris in attacco eccolo Garris lavorare dal palleggio bella palla dentro per Bagaric che però non se l'aspetta e si tramuta questo possibile assist nella palla persa numero 4 per la Climamio punta per Stefansson ribalta per Greer campo aperto bene per la Carpizza come al solito palleggi anche in eccesso se ne facciamo una questione di purismo da parte di Greer si sei con spazio per il suo tiro da 3 questa è una soluzione assolutamente logica il tiro è buono ancorché sbagliato dietro la schiena Bellinelli a lavorare per Lorbeck riceve la palla schiacciata per terra attacca Cittadini Cittadini tiene una cosa la ricezione di Lorbeck un'altra è quella di Bagaric eccellente inizio da parte di Citta come lo chiamano tutti anche gli avversari che come ho detto lo conoscono bene è una delle chiavi della superiorità in dubbia della Carpizza bravissimo anche in questo caso Cittadini ha capito il movimento che stava facendo Bagaric mentre rivediamo il canestro incredibile di sinistro che ha fatto prima contro Bagaric dicevo che ha visto in anticipo quello che doveva fare Lorbeck e si è messo davanti impedendogli un tiro comodo Morandè mette palla per terra forza dall'arresto il tiro è sbagliato il rimbalzo lungo è controllato da Lorbeck che continua a denunciare un limite di potenza in movimenti da lungo vero pur essendo un giocatore con mani assolutamente educate eccolo qui anche contro Sisei guadagnare poco spazio poi però Sisei usa male il corpo e va a commettere fallo immagino che non cambi il piano di gara di Repesha che adesso vuole attaccare più che cittadini ispiratissimo un non difensore come Sisei infatti in questo caso è stato comunque molto bravo Lorbeck ad avere pazienza ha tenuto la palla palleggiandoli indietreggiando col corpo e a pescare un fallo su Sisei il palleggio per Kiwan Gerris smarcamento per Nate Green possibilità di pick and roll laterale giocato con Lorbeck sviluppo lento piazzato di Bellinelli primo ferro secondo ferro si salta a rimbalzo Bagaric spetta e garantisce un extra possesso ai suoi zona 3-2 chiamata da Piero Bucchi con Greer in punta dietro cittadini Sisei Bagaric ha un eccellente angolo per ricevere ma è la seconda volta che la tocca e non la tiene perché fa un grossissimo errore cioè quello di ricevere la palla con una mano sola l'aveva fatto anche nell'azione precedente prendere la palla con due mani deve essere un comandamento per un lungo come lui e Piero Bucchi fidando nel vantaggio da dei minuti in questo primo quarto a Mimo Morena il capitano di lungo corso della squadra uno dei nostri idoli assoluti questo significa anche essere in vantaggio all'inizio poter ruotare il personale come pare a te e non come sei costretto a fare dalla situazione di tempo e punteggio blocco di Morena per l'uscita di Lynn Greer blocco di cittadini cambio addirittura accettato da Bagaric Greer gli stampa in faccia la tripla del più 14 bravissimo Greer ma la fortitude è già da questa parte e il tiro di Garris è sbagliato il rimbalzo è controllato da cittadini apertura per Stefansson subito sportellate per Morena Stefansson con la quinta e l'overdrive l'uomo che viene dal freddo marchia questa partita 10 suoi 7 di Greer e 16 addirittura di vantaggio per la Carpisa adesso arriva il fallo di Morena ma questo inizio è tutto Carpisa e soprattutto la peggior difesa del campionato sta tenendo l'attacco dei campioni d'Italia a 5 punti Greer sta facendo vedere delle cose normali ma soprattutto questo giocatore Stefansson ci sta facendo capire perché l'NBA si era interessata a lui e cittadini sta giocando una partita molto molto buona e in attacco ma soprattutto in difesa primo libero sbagliato da parte di Nate Green io credo però che tutto quello che è successo a Biella con l'approccio sbagliato alla partita con l'approccio difensivo carente per 40 minuti sia una delle chiavi per cui la Carpisa ha reagito perché quando vieni sconfitto in questa maniera e devi giocare due giorni dopo ovviamente la reazione soprattutto quella immediata del primo quarto è quasi di matematica il pericolo qual è giocare troppo sull'emotività e rischiare di spegnersi col passare del tempo l'Orbeck cerca di essere aggressivo ma è molto pericoloso fare una cosa del genere contro l'Inkri il mago del fallo subito in questa situazione è il primo per l'ex giocatore di Michigan State Greer viene invece da Temple dove è stato allenato da coach Shaney ha fatto tanta zona al college ma sicuramente ha imparato anche tante cose interessanti lavora dal palleggio la Ranaga punta per Stefansson che non va sul blocco di Morena forza dall'arresto clavoroso canestro e clavoroso primo quarto di John Stefansson mamma mia questo tiro era impossibile in una scala di difficoltà da 1 a 10 era 11 Green a lavorare in palleggio taglio di Watson alto basso con Lorbeck molto bene effettuato e Lorbeck è un giocatore di post alto e non di post basso mi sembra che questa azione nel bene dopo il male del post basso lo abbia sottolineato due volte Lorbeck ha fatto vedere come sa passare la palla ma altrettanto bravo Watson a prendere posizione in mezzo all'area forza Greer e sbaglia Green la differenza è solo una N invece della R va a puntare letteralmente come si direbbe nel calcio Stefansson uno Stefansson grande protagonista salutato alla sua uscita dal campo per lasciare spazio a Mason Rocca e Morandè da una assoluta ovazione continua nei cambi e ripeto questo è qualcosa che sarà utilissimo all'allenatore della Carpisa nel quarto quarto sì perché in questo modo può far riposare i giocatori che hanno giocato fino adesso ma soprattutto far entrare in partita giocatori che potrebbero essere importantissimi come Larra Naga e Rocca attenzione a Mason Rocca altro giocatore d'impatto anche statisticamente uno dei migliori giocatori di questo avvio di campionato ma con Rocca vale lo stesso discorso di Stefansson anche se adesso abbiamo visto i 12 punti di Stefansson Stefansson era un buon giocatore anche prima anche nel suo inizio che statisticamente è stato prima molto deludente poi più o meno deludente però rimane lo stesso tipo di giocatore sono giocatori che qualcosa alla squadra danno in ogni situazione c'è Beccirovic in campo per la clima mio scarico per Lorbeck tiro da tre piedi per terra con poco ritmo sbagliato il rimbalzo non sarebbe di Watson ma Watson non prende solo i rimbalzi che gli cascano in testa qui lo prende addirittura contro un grande specialista come il signor Mason Rocca e non è facile saltare in testa Mason Rocca aveva già preso un importantissimo rimbalzo su un errore dalla lunetta di Green è un giocatore non alto non grosso ma che ha un senso della posizione incredibile e ha molta forza fisica ha lavorato tantissimo con i pesi erano la sua passione a Virginia ha giocato quattro stagioni con i Cavaliers con una doppia doppia di media da senior ovvero sia al quarto e ultimo anno di università oltre 14 punti e 10,4 rimbalzi e i rimbalzi sono stati la sua specialità anche lo scorso anno in Grecia col Pagnonios a 10,1 di media il miglior rimbalzista di tutto il campionato greco secondo tiro libero a bersaglio per Watson ferma un po' l'emorragia la crema mio e soprattutto segna 5 punti in un minuto o giù di lì dopo averne segnati 5 in 7 o giù di lì palleggio per l'ingreer punta per Laranaga il taglio di Morandé anticipo di Lorbeck su Morena che piazza un blocco cieco forzatissimo e sbagliato da Greer ben rimbalzo di Lorbeck che poi viene fermato fallosamente non che se ne sentisse troppo il bisogno per la carpisa da parte di Jay Laranaga soprattutto perché questo comporta due tiri liberi per Lorbeck nell'azione precedente c'è stata un'azione di Greer che la carpisa deve assolutamente evitare forzature non ce ne è bisogno sta controllando la partita un passaggio in più è sempre meglio di un tiro di troppo Lorbeck a bersaglio col primo tiro libero al momento c'è nonostante gli ultimi due errori 61% dal campo carpisa 20% clima mio direi che finora la partita vera non l'abbiamo ancora vista onestamente no anche perché la clima mio ha sbagliato comunque dei tiri buoni adesso con Becirovic cercherà di migliorare quella parte del gioco e adesso c'è il triplo playmaker per Repesha con Rombaldoni Garris e Becirovic assieme a Lorbeck e Watson linea di fondo per Rocca esce dai guai schiacciando per terra la palla per Greer la rivolrebbe ma Greer la prende la tira sbaglia ancora rimbalzo per Watson apertura per Rombaldoni che schiaccia per terra per Garris bene per Lorbeck comincia a circolare la palla per la clima mio cala un po' l'intensità difensiva della carpisa e Rombaldoni si prende gli spazi che l'uomo di Greer è costretto e invitato dal solenatore a prendersi ma Rombaldoni in teoria non è un tiratore direi che con questo tiro ci ha smentito immediatamente la pratica va al più della grammatica ultimi 10 secondi del quarto ultimi 5 secondi del possesso per Greer ancora dal palleggio ad attaccare Garris il suo arresto riapre per la Ranaga al 24esimo secondo sbagliato rimbalzo di Watson nel traffico e finisce qui il primo quarto grandioso inizio per la carpisa grandioso inizio di Stefansson con 12 punti e il 100% al tiro ce ne sono anche 7 di Greer ma segni di vita per la clima mio grazie soprattutto ai 4 con 4 rimbalzi uscendo dalla panchina in soli 2 Dallas Mavericks un'idea ce l'avevano avuta non avevano visto male perché quello che sta facendo vedere stasera è veramente da NBA fino a questo momento Fulz contro Spinelli due numeri 9 in uscita dalla panchina per questo inizio di secondo quarto del rimbalzo nel traffico per la Ranaga attenzione all'accelerazione di Spinelli che arma la mano proprio dell'irlandese il tiro è sbagliato e non c'è copertura di transizione ma Vecirovic non riesce a raccogliere il pallone che si perde sul fondo sesta pala persa della Climamio sentiamo che aria si respira vicino alle panchine da Pietro Colnago l'intenzione da parte di Rebis è proprio quella di aumentare il ritmo e di cercare il contropiede invece per quanto riguarda Bucchi e la difesa il taglia fuori soprattutto hanno recuperato 4 rimbalzi in attacco che avrebbero potuto essere nostri ha detto a questo punto dobbiamo anticipare sui loro tiratori ma non accettare il cambio sul pick and roll arriva il fischio per un contatto falloso provocato da Travis Watson il vantaggio di avere un roster come quello della Climamio lo stiamo vedendo in questa partita puoi fare 3, 4, 5 cambi e non solo non scende la qualità può anche salire soprattutto in una brutta giornata del quintetto base come finora è stata questa intanto continuiamo a vedere invece una Carpisa che sta facendo tutte le cose giuste per vincere una partita Morandè non forza trova Cittadini per due punti facili anche Cittadini 100% dal campo un gran canestro di sinistra e un tiro in sospensione arma che abbondantemente nel suo bagaglio tecnico Morandè in ritardo su Rombaldoni poi ha un brutto angolo lo scarico è per l'Orbe che sicuramente Morandè deve iniziare le partite con un approccio difensivo diverso Abiela sul primo recupero è stato bucato per una schiacciata da Walter Santarossa e finora proprio in questa partita non centrato nella maniera più assoluta palleggio di Valerio Spinelli la serie di blocchi per la Ranaga si trasferisce proprio sul francese da Colorado che è sul lato di Mason Rocca 3 secondi per tirare ancora difficilissimo è insegnato da Morandè che secondo me però non certo per cercare il pelo nell'uovo diventerà un grande giocatore quando oltre a queste cose difficili ne farà di facili infatti questo è stato bravissimo a segnarlo per l'amor del cielo però era un tiro che non c'entrava assolutamente niente Pecirovic forzato è sbagliato altro rimbalzo di Watson raro vedere un rimbalzista puro di questa qualità uno che ripeto i palloni li va a prendere non li prende certo in virtù del fatto di essere tanto più alto tanto più forte tanto più saltatore degli avversari ma solo in virtù del fatto di volerli più degli avversari è tutto lì guarda perché ci eravamo dimenticati di dire che salta oltretutto diciamo non tantissimo per usare un eufemismo però ha solo una gran voglia un gran senso della posizione e anche in questo caso è stato bravissimo a tenere fisicamente a terra l'avversario e la Climamia al momento sta controllando il 65% dei palloni disponibili a rimbalzo avete visto quasi il 42% a rimbalzo d'attacco se è a meno 10 con queste cifre significa veramente che tutte le altre fasi del gioco sono molto al di sotto della normalità per la fortitudo infatti si è iniziato la partita secondo me con la mentalità un po' troppo soffice per affrontare un Napoli che in casa si sa dal 120% Spinelli va dietro la schiena a lavorare contro Robert Fultz che cerca di mettere un po' di pressione sulla palla sale la Ranaga e ribalta per Morandè blocco di Cittadini per l'uscita di Spinelli che vorrebbe in queste situazioni un pick and roll idealmente glielo offre Cittadini va verso la linea laterale Spinelli e da terra riesce comunque a trovare Cittadini che sbaglia il primo tiro della sua partita ancora una volta troppo vicino al 24esimo secondo l'attacco della Carpisa Fultz con un'idea che denota personalità ma non particolare lucidità e poi Morandè a controllare il pallone e a riaffidarlo a Spinelli non è di eroismi che abbia bisogno una squadra che al momento è sotto di 10 possibile triangolo sul pick and roll Sisei attacca Watson gran perno tiro ancora difficile monumentale canestro di Ensu Sisei Sisei ha sbagliato un tiro da tre dove era solo come un'eremita due tiri dove la difesa come in questo caso quella di Watson è stata perfetta li ha segnati Rombaldoni riesce ad aggirare anche Cittadini riapre per Becirovic gran palla di Roma ma Becirovic sbaglia un tiro facile apertura di Cittadini per la Ranaga tutti gli esterni della Carpisa appena prendono il pallone cercano subito una situazione di campo aperto di superiorità numerica stavolta la Ranaga anche in virtù della velocità relativa non la trova Spinelli doppio pick and roll arresto tiro e bomba Valerio Spinelli anche in questo caso la difesa della Clima Mio è stata un po' troppo soffice Fulz ha lasciato troppo spazio a Spinelli che ha preso un tiro troppo comodo 15 di vantaggio per la Carpisa Lorbe Caribaldare grande lavoro prima della ricezione per Watson stavolta spazza via Cittadini non gli dà una possibilità Cittadini ha cercato l'anticipo e Watson ha sfruttato l'anticipo è stato bravissimo ha fatto una cosa fondamentale ha fatto un blocco e si è girato aprendo le braccia verso Canestro Fulz ruba e poi sbaglia il più facile dei canestri senza cercare il tabellone anche un minimo di sfortuna sulla transizione Spinelli contro l'Orbe che ovviamente lo attacca ovviamente gli va via passa la palla per Morandè che fa una gran cosa facendo saltare a Rondaldoni bruciandolo per la tripla quel canestro difficile ha sbloccato Morandè questo è il tipo di canestro che può cambiargli la vita da buon giocatore a dominatore perché uno con quei mezzi fisici può dominare Fulz non si perde d'animo questo dopo i due errori è un gran canestro che carattere perché guarda ci vuole del coraggio a prendersi un tiro del genere dopo aver sbagliato un sottomano da solo e dopo aver preso anche quella tripla che c'entrava poco in precedenza Spinelli provoca un altro cambio finisce Watson sulle sue piste Spinelli schiaccia per terra per Cittadini che riapre per la Ranaga classico calcetto di la Ranaga la palla a bersaglio la Carpisa scalda la mano 60% da 3 più 17 bravo la Ranaga ma ancora più bravo Cittadini a rinunciare ad un tiro contro Fulz per trovare il suo compagno per un tiro da 3 fallo lontano dalla palla di Sisei che ferma il cronometro adesso il problema della Climamio è che non sta riuscendo a fermare la partita si continua ad andare avanti e giocando questo tipo di palacanestro una squadra nel momento emotivo al di là del dato tecnico della Carpisa ovviamente continua a far andare il suo motore a 4 cilindri la Climamio non riesce veramente a trovare il bandolo della matassa di questa partita Reppisa è costretto a fare cambi in continuazione non riesce a trovare un quintetto che riesca a frenare l'onda palleggio in campo Fulz sono triple sono triple diverse che nascono da penetra e scarica dal pick and roll dal lavoro sui blocchi la Carpisa in attacco e squadra con un talento sufficiente per stare con chiunque campioni di Italia inclusi oltretutto oggi oltre all'arma del tiro da tre che è abbastanza naturale che ha nel DNA questa squadra sta mettendo una dimensione difensiva che fino a questo momento non aveva mai messo 4.54 per l'intervallo dopo il time out Pietro Colnago quanto Repesciava ha detto abbiamo due problemi uno in attacco e uno in difesa il problema in difesa è che siamo troppo soffici facciamo due falli abbiamo solamente due falli di squadra e facciamo segnare loro canesti troppo facili in attacco invece usciamo sempre dagli schemi per cercare un tiro uno contro cinque e non è questo il nostro gioco mano bassa la chiamata di Piero Bucchi la finta di Morena che manda per aria l'orbe che tripla e poi maglia esposta a modi sacra sidone per i tifosi tripla di Morena esattamente identica a quella di Morandè nella meccanica troppo veloci nella bocare alle finte i giocatori della Climamio Guerris su cui rovina i cittadini con quell'eccesso di testosterone che solo il più 20 in casa e un canestro del genere di Mimmo nel nostro può darti il guaio che Mimmo Morena forse trascinato dall'entusiasmo di aver segnato questo canestro dal tre incredibile che poi ha dedicato al suo fan club si è dimenticato che erano andati a zona ha lasciato completamente libera la sua area per seguire a uomo un taglio di Bagaric spettacolo spettacolo gran movimento intanto e dopo la finta e il falleggio al resto anche questo col Kikimu va lì indietro ci vogliono comunque le mani per fare una roba del genere e anche il coraggio di rinunciare a un tiro da due per un tiro da tre che peraltro è la specialità della casa Mimmo Morena è il leader per stagioni giocate con questa maglia la maglia di questa società ovviamente non viene conteggiata la Napoli del passato quattro stagioni 146 presenze lui sostanzialmente c'è sempre stato e ha iniziato a Napoli dove è rimasto dall'87 al 95 e poi dove è ripassato in mezzo di una carriera da girovago che ha toccato Varese Forlì Iesi Fabriano Scaffati e Rieti prima di chiudersi attendibilmente qui a Napoli come giocatore ma non necessariamente nella sua vita all'interno del club che potrebbe e dovrebbe proseguire con altri ruoli con i tiri liberi la Klimamio ritorna a meno 17 ma il pallino del gioco è chiaramente nelle mani della Carpisa che oltretutto ha in panchina a riposare l'ingrire potrà usarlo negli ultimi minuti di questo quarto molto fresco e molto pericoloso la Ranaga dal palleggio per Stefansson piccherò laterale giocato con Cittadini Stefansson fatica ad attaccare Rombaldoni poi si butta dentro alza la parabola stavolta gli esce il rimbalzo e per Bagaric l'unico vero problema della Carpisa finora è eccesso di palleggio e di palla ferma in alcuni momenti e non da parte di un solo giocatore anticipo forte tutto davanti di Morena contro Bagaric il tiro da fuori di Watson non una grande idea ancora Morena e Bagaric a dare vita a un duello particolare Spinelli attacca Rombaldoni lo batte in velocità subisce il fallo dell'argento di Atene Quintetto strano in campo quello per la Clima Mio senza un numero 4 vero perché Watson non è pericoloso da fuori l'abbiamo visto nell'azione precedente forse ci sarà il problema di avere l'area un po' troppo affollata per le penetrazioni dei piccoli fortitudo Spinelli ha fatto appieno il suo lavoro adesso consegna la squadra per gli ultimi tre e mezzo del primo tempo all'Ingrir e qui Grir dovrà dimostrare l'intelligenza di riuscire a giocare insieme ai compagni subito arma la mano di Morena fosse andato dentro questa avremmo assistito a scene di assoluto delirio popolare non è così Becirovic attacca la Ranaga che difende bene poi ci vuole la classe di Sani per fare una roba del genere la classe assoluta perché un tiro così cadendo di lato da quella distanza che è una distanza difficilissima per mettere in canestro un tiro del genere ci vuole tutta la classe di Sani Becirovic fenomeno è fenomeno da questo punto di vista quello del talento con la palla in mano Stefansson per Grir altro fenomeno di questo tipo sia pure con caratteristiche diverse ancora Pichernol con Morena dentro bene per Cittadini gran taglio di Città poi beffato dal doppio ferro è lui l'ultimo a toccare ma molto bene la Carpisa anche con Morena qui andiamo a rivedere questo lavoro questa è proprio bella bella mamma mia la morbidezza di quella mano in quel tiro con la Ranaga praticamente sopra la testa si commenta da solo gran canestro veramente per Becirovic vediamo se è un canestro in grado di mettere in partita il giocatore sloveno che tra l'altro è in attesa di passaporto italiano e questioni di passaporto italiano sono quanto mai attuali nel giorno in cui è arrivata la decisione del Consiglio federale della FIP che ha disegnato dal suo punto di vista il futuro dalla stagione 2006-2007 saranno obbligatori cinque giocatori italiani intesi come nati e formati significativamente in Italia oltre a un giocatore italiano per passaporto e poi sarà possibile schierare sei stranieri che verranno divisi in base alla normativa del CONI dalla stagione 2007-2008 gli italiani nati e formati in Italia dovranno essere sei all'interno di un roster da dodici non è il momento la sede anche perché non c'è il tempo di commentare tutte le ricadute di questa decisione di sicuro una decisione che porta a un'ulteriore decisione molto significativa ovvero sia le dimissioni del Presidente della Lega Enrico Prandi dal ruolo di Vice Presidente della Federazione diciamo che non c'è identità di vedute per usare un eufemismo tra proprietari e comunque operatori della Serie A Federazione e CONI su questo tema ma con questa regola comunque rischio di tornare a giocare è ufficiale effettivamente chi voglia fare un'offerta a Riccardo Pitis soprattutto per la stagione 2007-2008 e seguenti è meglio che si tenga pronto se si parla di offerta lascia anche il conto corrente il tiro di Greer buono ma sbagliato Becirovic controlla e poi Bellinelli capo aperto fermato da un fallo che viene giudicato antisportivo da parte di Tola Stefansson non si capacita tanto della decisione arbitrale andiamo a rivedere quello che è successo a parte che qua c'è un quarto tempo da parte di Bellinelli da dietro Stefansson interviene sulla palla sicuramente non lo fa cercando di giocarla io non credo che questo in generale sia un fallo meritevole di regalare all'attacco due tiri e il possesso quindi anche un massimo potenziale di 5 punti ma l'arbitro non deve fare questo ragionamento bensì applicare la regola infatti se comunque era stato dato un fallo intenzionale a Bagaric un po' di azioni fa anche in questo caso è giusto fischiarlo anche se io e te non siamo assolutamente d'accordo il palleggio da parte di King Wayne Garris il blocco di Bagaric l'uscita per Bellinelli poi due blocchi in fila per Becirovic dentro per Bagaric fiducia ovviamente a Morena da parte di Bucchi Becirovic riapre direttamente nelle mani di Greer che viene fermato il campo aperto da Bellinelli questo però signori è un fallo antisportivo tanto esattamente al 110% quanto quello di Stefansson non importa se chiude una situazione di 1 contro 0 o di 4 contro 4 Bellinelli non può non vuole e non ha intenzione di giocare la palla per questo io dico non si può dare un fallo antisportivo a ogni situazione del genere però se sul regolamento c'è scritto quello o è fallo due volte antisportivo o zero volte 1 e 1 è impossibile e guarda caso succede a distanza di 10 secondi Flavio il rimedio qual è? bisogna rivedere il regolamento perché se quella è la regola va cambiata non c'è niente da fare sì oppure rivedere l'interpretazione della regola perché la regola è talmente lasca perché parla di giocare la palla io non so al di là delle situazioni in cui per te sono state 7-8 mila in carriera cerchi di recuperare la palla quando è che vai a giocare la palla in difesa è un concetto molto vago oppure parla di giocare difesa all'interno dello spirito delle regole beh anche questo quanto a vaghezza batte tutti infatti potremmo stare qua probabilmente tutta la giornata a discutere senza trovare una soluzione però sarebbe meglio trovarla una soluzione perché i giocatori sappiano che a quel tipo di fallo corrispondono una rimessa laterale o due liberi è possesso perché c'è una leggerissima sfumata differenza tra la rimessa laterale e due liberi è possesso Bellinelli sul piede sbagliato con poca potenza subisce la difesa di Jay Laranaga Bellinelli fino a questo momento negativo 0 su 5 dal campo un solo punto nei 9 minuti di utilizzo per l'MVP della Supercoppa vinta dalla Climamio contro la Benetton eccolo Bellinelli uscire dal blocco armare la mano di Watson che sbaglia il rimbalzo molto facile da parte di Nate Green adesso è un po' calata l'intensità della Carpisa ma ovviamente non era riportabile su 20 minuti quella dei primi 5 minuti dei due quarti di avvio c'è il lavoro difensivo di Rocca per cercare di tenere lontano Bagaric che lo sovrasta fisicamente circolazione sul perimetro arresto e tiro e grandissimo grandissimo canestro di Marco Bellinelli quanta difficoltà pari a quello di Becirovic sullo stesso lato fatto poco fa va detto che comunque questi sono tiri non facili la Climamio deve cercare di trovare altre soluzioni Morena si scorda la palla e quindi la consegna involontariamente nelle mani di Bagaric quinta palla persa per la Carpisa Watson per l'arrivo a rimorchio da parte di Garris dentro la palla per Bagaric uno contro uno troneggiante al centro dell'area e con Bagaric in postpasso la partita cambia e non cambia poco e che bel movimento ci ha fatto vedere in questo caso Bagaric perché ha fatto due palleggi una piccola finta che ha sbilanciato Morena si è rigirato verso il centro e ha subito il fallo di Mimmo perché era abbastanza inevitabile in quanto fuori controllo Gran movimento rivisto nel replay da parte di Bellinelli tiri liberi per Dalibor Bagaric 95 partite nella sua carriera con la maglia dei Chicago Bulls un triennale da oltre 2 milioni e mezzo all'anno per lui fatturato con la maglia di Chicago 2 punti e mezzo col 36% ovviamente non destinato a entrare nella storia dei Bulls che lo avevano scelto al primo giro col numero 24 ipnotizzati dalla combinazione di fisico e tecnica che può garantire Morena prende un altro tiro stavolta gli esce ultimi 25 secondi del secondo quarto attacco importantissimo a mio modo di vedere per la prima mio con una discrepanza di 4 secondi e mezzo tra il cronometro di 24 e quello del primo tempo salta a zona la Carpisa ma è un salto a zona molto molto passivo permette due facili a Nate Green però arrivano molto presto danno la possibilità della replica alla formazione napoletana Stefansson impossibile cortissimo la palla muore nelle mani di Bagaric e la clima mio letteralmente salva caprecavoli meno 11 visto la piega che aveva preso la gara è poca roba il commento con Pietro Connago e John Stefansson un grande sì basta un'interpretazione da questo punto di vista e dare costanza soprattutto soprattutto perché ripeto questa è una situazione in cui tra arbitri e giocatori potrebbe esserci il massimo della collaborazione perché una volta risolto il problema poi è facile dire ai giocatori hai fatto questo quindi è fallo antisportivo oppure hai fatto quell'altro quindi non è fallo antisportivo risultato si torna a giocare e Greer parte mettendo le marce alte e subendo il fallo con il suo tipico arresto verso il centro dell'area Greer che ha iniziato alla grande poi si è un po' fermato ha giocato assieme a Cisei solamente tre minuti nel secondo quarto e nel quintetto di avvio Greer per Piero Bucchi invece accanto a Cittadini c'è Mason Roca per il ruolo di numero quattro della Carpisa palleggiare sto tiro forzato ancora da Morandè sbagliato rimbalzo per Watson Roca finisce sempre per terra dopo ogni situazione di rimbalzo blocco di Lorbe che è mancato e non di poco palla riconsegnata Nate Green da fermo è un suo tiro lo manda a bersaglio l'ex giocatore di Indiana State prima mio meno 8 sai cos'è? Green ha un tiro ottimo l'ha dimostrato in questa azione però è un giocatore talmente pulito che ogni tanto non si sente in condizione di prendere i tiri che invece dovrebbe prendere il ricciolo di Greer si butta indietro un canestro di notevole difficoltà soprattutto per un giocatore che appena appena supera il metro e 80 dentro la palla di Green per Travis Watson Watson a lavorare dal palleggio qui è contro Mason Roca se fossi Watson con quei mezzi tecnici non farei una cosa del genere rischio di infrazione di passi e doppio palleggio risultato scarico per Lorbe che invece di una possibile palla persa punti 3 3 punti che fanno male alla Carpisa perché adesso fortitude a meno 7 l'uscita da blocco di Roca per Link Greer sale i cittadini propone una situazione di pick and roll Greer va dall'altra parte tira la distanza intermedia pazzesco canestro di Greer e lo fa con una naturalezza che ancora di più mi sconvolge molto naturale anche il movimento di Bellinelli che però va lungo deve cercare di accoppiarsi immediatamente con Greer lo fa su Stefansson c'è Becirovic che potrebbe essere in difficoltà nel contenere fisicamente il giocatore islandese che esce da blocco di Roca eccolo l'isolamento per Stefansson poi si trasforma in un pick and roll scivolata da parte di Stefansson gran tufo da parte di Mason Roca inutile però perché c'è l'inflazione di passi in quanto Roca ha strisciato con il controllo del pallone però Roca anche in una partita del genere in una partita in cui al termine del primo tempo per esempio ha avuto un saldo negativo il cosiddetto plus minus con lui in campo la squadra è andata sotto di 8 punti rispetto a quello che ha fatto con lui in panchina mi sembra sempre un giocatore che va elogiato per quello che mette nella partita tecnicamente non è un fenomeno lo sappiamo benissimo ma un giocatore così se io fossi allenatore lo farei giocare sempre perché come dicevi tu mette il cuore che in partite come queste e comunque in generale in tutte le partite è l'80% di quello di cui un giocatore ha bisogno per far vincere la propria squadra ultimi 8 minuti del terzo quarto Green per Beccirovici il pick and roll alto fa la trasferita sul lato dove c'è l'Orbe che la schiaccia per terra malamente direttamente nelle mani di Stefansson subito contropiede fallo da parte di Green che questa volta manda in lunetta Lynn Greer grande accelerazione ancora una volta da parte di Stefansson e altro fallo al limite di quel discorso che stavamo facendo anche se qui perlomeno la differenza sarebbe eventualmente tra due liberi e palalato e due liberi e basta la cosa bella di questa azione è stato l'accelerazione di Stefansson ma soprattutto il passaggio a una mano che è passato a due centimetri dalle mani di Green bravissimo ancora una volta Stefansson Creary lunetta con due teni liberi come detto nella sua carriera c'è anche un titolo di miglior realizzatore di Neurolega con la maglia dello Slash di Vrock c'è anche una partita a Temple con 18 su 18 ai liberi e ancora oggi il record per gli Ous c'è un doppio quarantello in stagione con Temple 47 e 43 nella stessa stagione insomma un giocatore davvero speciale quando si tratta di segnare lo sarebbe anche Beccirovici in teoria ma non sta tirando benissimo in questo avvio di stagione spaglia un altro tiro molto libero altra scivolata da parte di Greer e poi in cielo e ancora più su come direbbe Renato Zero Michel Michel Morandé ecco bisogna solo rivederla questa azione si commenta da sola Greer scivola e guardate cosa fa Morandé mamma 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 mia io questa la rivedrei quelle 7-8 volte un po' per sottolineare che Morandé ha fatto infrazione di passi ma la fase terminale dell'azione è totalmente insensata io ripeto nel momento in cui questo giocatore acquisisce una dimensione fisica in cui il contatto non gli dà fastidio e vedete che in teoria può acquisirla non c'è possibilità di fermarlo perché poi la mano è tutt'altra che diseggiucata ma incredibile io vorrei rivederla ancora una volta e ancora un'altra volta ha fatto un gesto atletico che personalmente in Italia l'ho visto fare solo un'altra volta a un mio compagno di squadra che penso tu ti ricordi in finale di Coppa Italia ha fatto una schiacciata indimenticabile questa posso dirti è quasi meglio dell'altra perché davanti c'era Travis Watson non proprio magro magro eh sì effettivamente oltretutto Evans arrivava con un'inerzia diversa in quella situazione qui è arrivato dal lato linea di fondo chiusa teoricamente sarebbe stato difficile anche un layup figuriamoci una schiacciata finora il gioco abbondantemente più bello di questo campionato regia per favore se avete tempo fatecelo rivedere un'altra volta davvero clamorosa la giocata di Michelle Morandé e questo è il tipo di giocata che tra l'altro può esaltare oltre al pubblico Michelle Morandé da sottolineare anche che alla non scivolata in quella zona di un giocatore come Greer sarebbe il caso probabilmente di fare qualcosa mentre per fare qualcosa contro questo qui bisogna chiamare i reparti speciali è lo scico io dico che il management della Carpisa oggi può tranquillamente chiedere il raddoppio del prezzo del biglietto solo per questa azione non dirlo due volte per Francesco Betti il general manager della Carpisa altrimenti ti prende in parola dicevamo del plus minus del saldo tra quello che fa la squadra con un giocatore in campo e senza il massimo nel primo tempo è assolutamente di Alessandro Cittadini più 20 per la Carpisa con Cittadini in campo questo è molto interessante e più 18 con Sisei in campo mentre anche Antimo Lubrano il team manager della Carpisa si è accorto che in quella zona è il momento di fare qualcosa sì direi che in questo momento ci sono 5 persone che stanno cercando di prosciugare il lago che si è formato in quella zona dove sono scivolati almeno 3 giocatori più 8 per Travis Watson nel plus minus del primo tempo e non a caso Repesha lo ha inserito nel quintetto di avvio del secondo tempo il problema dei campi scivolosi è una delle linee di tendenza di questo avvio di stagione la parola a chi 2 o 3 minuti della sua vita li ha passati all'interno di quei campi se si scivola A non si può giocare B si rischia fisicamente e C si offre uno spettacolo che è eccellente per i bloopers un po' meno se si vuole vendere la pallacanestro guarda è stata una delle mie battaglie perse quando ero giocatore mille volte ho detto ci sono delle cose che vanno cambiate ad esempio una su tutte secondo me bisognerebbe togliere gli adesivi pubblicitari al centro della lunetta palleggio da parte di Nate Green punta per Bellinelli attraversa il campo Becirovic rischia di essere intercettato da Stefansson deviazione di Bellinelli nelle mani di Green attacco confuso per la clima mio forzato il passaggio di Green schizza in mano Watson che sbaglia non credo che abbia toccato il ferro invece si secondo la decisione arbitrale alla fine arrivano due punti dal peggior attacco in assoluto di questa partita non solo della clima mio e forse anche di tutta la stagione comunque Watson mi sembrava Moses Malone l'ha tirato per prendere il rimbalzo secondo me Stefansson chiama il gioco testa il pick and roll alto che serve anche per chiudere i giochi cambio accettato da Lorbeck si butta dentro Stefansson riapre per Moradet al 24esimo secondo fantastica palla di Stefansson di notevole difficoltà ma ancora una volta la Carpisa ci ha messo troppo tempo a prendere un'iniziativa Green sbaglia Lorbeck con rimbalzo d'attacco non trova il tempo Becirovic che rifiuta un tiro non rifiuta l'assist di livello 5 stelle extra lusso per Rasenblord che dolcezza di passaggio questo di Becirovic assolutamente impalpabile la forza che ha messo in quel passaggio palleggio per Stefansson blocco verticale di Cittadini per l'uscita di Moradet arriva Mason Roca a piazzare il blocco per il gioca 2 Moradet attacca il cambio di Watson si accontenta per modo di dire dell'arresto il rimbalzo e per Travis Watson due errori di Moradet dopo quella gemma che ha regalato a tutti gli abbonati di Sky linea di fondo di Bellinelli e a questo punto spontanea la domanda ma Marco perché non vai dentro così più spesso? non avrebbe tutti i torti a farlo anche perché i mezzi fisici sono incredibili una statistica che stavamo guardando all'inizio della partita era proprio che nelle prime quattro partite Bellinelli ha tirato solo due tiri liberi il che vuol dire che tanto dentro non è andato anche perché ha giocato 112 minuti in quelle quattro partite quindi un tiro libero ogni 56 minuti pochino abbiamo parlato prima di peggior attacco forse della stagione qui il passaggio di Green per l'Orbe che è quasi intercettato la palla schizza in mano a Watson e come vedete c'è il tocco con il ferro altrimenti non sarebbe stato convalidabile il canestro successivo perché il tiro era arrivato a un secondo dallo scadere dei 24 Bucchi sente che è il momento di tenere lontani gli avversari per questo manda in campo Sisei e adesso Sisei dovrà assolutamente garantire della qualità al suo allenatore in questi 5.36 di terzo quarto che rimangono altra mossa secondo me molto azzeccata da parte di coach Bucchi è stato quello di togliere dal campo Morandè non solo dopo l'incredibile schiacciata che abbiamo visto e rivisto aveva commesso due errori grossolani in attacco andando a forzare dei tiri inutili ma soprattutto aveva commesso un grosso errore in difesa l'abbiamo visto abbastanza animato per usare un eufemismo Bucchi mentre Greer pur rischiando lo sfondamento inventa un camestro andiamo a sentire da Pietro Colnago per che cosa si scaldava così tanto l'ex allenatore della Benetton basta guardare il tabellone per capirlo zero falli fatti 5 minuti e 20 significa che la squadra non sta reagendo da un punto di vista di intensità in difesa vuole molta più aggressività sulla metà campo difensiva ultimi 5 eventi adesso del terzo quarto 10 di vantaggio per la formazione che ha il vantaggio del fattore campo Greer bene per Sisei ottimo lavoro difensivo da parte di Lorbeck Sisei va per terra perde ovviamente il controllo del perno ed è un'infrazione di passi per l'ex giocatore di Roseto per la palapersa numero 7 solamente della Carpisa ti voglio fare una domanda Flavio ma secondo te Becirovic è famoso per essere un grande difensore? sì è la prima cosa che è in cima a tutti gli scouting report che lo riguardano ecco secondo me è un tantino rischioso metterlo sul potenziale avversario più pericoloso in attacco come l'ingrier effettivamente è rischioso però è anche vero che non è raro il caso di un cattivo difensore che è meno cattivo difensore contro le stelle avversarie perché almeno è concentrato perché almeno sente un po' il duello senza offesa per un'assoluta divinità del gioco è stato il caso a lungo secondo me di Sale Giorgiovic assolutamente poi va detto che se l'ha fatto Gelsomino alias Jasmine Repesa vuol dire che proprio una pazzia non deve essere Lorbeck intanto con un altro movimento debole spalla canestro e Greer col gioco di prestigio Udini sotto canestro Lee Greer quarto canestro da due e quindicesimo punto rilancia la Carpisa dopo il time out 12 di vantaggio adesso per i padroni di casa Watson palla ferma Green per Lorbeck anticipato da Sisei bel ribaltamento per Vecirovic metri di spazio e il terzo tiro facile sbagliato da Vecirovic è l'ennesimo rimbalzo preso catturato con volontà da parte di Travis Watson qui però andiamo a vedere in spazi del genere non ce la fa nessuno anche qui il sospetto di passi è forte però riuscirà a farlo così bene tanto di cappello premio anguilla sgusciante a Greer per quest'anno che ha fatto una finta Green si era fermato in mezzo all'area per prendere uno sfondamento Greer praticamente non l'ha visto primo tiro libero avversario per Travis Watson doppia doppia che diventa realtà con questo libero 10 punti e 10 rimbalzi equamente distribuiti 5 rimbalzi d'attacco per Travis Watson per darvi un'idea 2 per tutta la Carpisa vogliamo dire che se la fortitudo è ancora grappata a questa partita è soprattutto grazie ai rimbalzi in attacco di Travis Watson assolutamente 61 a 39 il duello in termini percentuali a rimbalzo per la Clima Mio l'unica voce che favorisce statisticamente i campioni d'Italia dicevamo di Becirovic la difesa Greer d'altronde Greer si è accorto di non aver davanti esattamente Sidney Moncrief europeo giustamente si prende la libertà di cercare di penetrare a ogni azione che ha la palla in mano e qui Becirovic è andato addirittura ad avvicinarsi pericolosamente a lui l'esperienza la Ranaga contro Bellinelli non c'è più possibilità di aiuto la rimessa dalle linee di fondo è una brutta bestia se non hai qualcuno a proteggere il canestro pollice basso la chiamata di Nate Green e Bucchi si sbraccia vuole saltare a zona su questo gioco Green immediatamente legge la variazione e chiama pugno alto gioco che è attuabile anche contro la difesa a zona del trasferimento di palla di Becirovic per Norvex schiaccia per terra per Watson arriva il fisco arbitrale fallo in dubbio ti vorrei portare sul terreno dei cambi di difesa all'interno dell'azione e in generale dei cambi di difesa che sembrano tornati molto di moda in questo campionato il primo pensiero va ovviamente alla Benetton i vantaggi sono facili da capire possibili svantaggi il giocatore pensa più al cambio di difesa che a difendere esattamente quello che è successo anche in questo caso tutti che chiamavano 3-3-3 al di là che quattro giocatori avevano capito uno no e quello è un grossissimo rischio perché così la difesa ti può saltare e poi alla fine cosa fai? rischi di non difendere come è stato in questo caso ultimi quattro minuti del terzo quarto 12 di vantaggio per la Carpisa Becirovic attacca Sisei fino in fondo pennellata a sinistra ha fatto tre canestri devastanti ha sbagliato tre tiri per lui di irrisoria facilità è una serata di quelle per Sani Becirovic la ranaga pressato da Garris tratta la palla un po' troppo per quelle che sono le sue propensioni 5 la chiamata di Stefansson le doppie uscite che favoriscono l'ingreer pick and roll in corsa con Sisei a chiudere per Greer che rimane accoppiato con Becirovic arresto e tiro e tripla l'ingreer cos'altro possiamo dire si sta prendendo gioco delle qualità difensive di Becirovic anche in questo caso comunque grandissimo canestro Kerry stitocco per lo stesso Becirovic che attacca la ranaga deve tornare sui propri passi c'è l'orbe che in post passo Becirovic vuole il centro dell'area devastante devastante uno più bello dell'altro ti fa dimenticare tutte le sue pecche difensive ha fatto un canestro credetemi ve lo giuro di difficoltà imperiale Robaldoni e Bagaric pronti a tornare per Repes ultimi due e mezzo del terzo quarto in arrivo pick and roll alto giocato da Greer con Sisei altro tiro forzato e altro canestro non è Climamio Carpisa è Becirovic Greer e in questo caso ha accettato il cambio si è trovato davanti Watson che è un tantino più alto di lui gli ha sparato un tiro in faccia dentro per l'orbe dal palleggio contro Sisei movimento eccellente anche per l'orbe che la scuola slovena ha il potere nell'attacco Climamio prima due canestri per Becirovic poi questo per l'orbe che finalmente va a segno anche in situazioni di post basso l'orbe che al momento è a quota 10 con 5 rimbalzi pressione per la Climamio attaccata da Stefansson che riapre bene per la Ranaga piedi per terra e il suo tiro lo sbaglia ma Stefansson ancora una volta con una cosa preziosa per i compagni Watson trova la coordinazione ma trova anche sotto di lui dopo il salto un difensore che guarda caso è Jon Stefansson secondo sfondamento preso della sua partita soprattutto terzo fallo per Travis Watson questa è una situazione sicuramente non facile su cui decidere per gli arbitri ricordatevi però che in situazioni di sfondamento diversamente da quello che accade per esempio nelle situazioni di blocco il difensore non è tenuto a dare all'attaccante il tempo e lo spazio per finire il movimento se si mette sotto è una posizione legale anche con un centesimo e un millimetro di legalità rimane legale in questo caso a mio modo di vedere il fallo c'era e non c'era difficilissima interpretazione ma anziché parlare del fallo voglio dire una cosa su Stefansson nel primo quarto faceva canestro nel terzo quarto ha smesso di fare canestro ma fa queste cose per cui è giusto che giochi per cui è molto probabile che Napoli porti a casa la partita quattro recuperi e due sfondamenti subiti per il giocatore islandese Greer riapre per l'uno contro uno di Cisei tiro difficile sbagliato Gerris per Rombaldoni Stefansson cerca la palla la protegge Rombaldoni arriva in fondo con la mano sinistra e segna due punti che fanno di questa partita decisamente la sua partita in stagione anche la prima in cui ovviamente viene utilizzato dopo l'ene contro Livorno e l'infortunio che l'aveva tenuto lontano dai campi in avvio di stagione palleggio per Greer palla riaperta per Cisei attacca il recupero di Lorbeck tiro con poco equilibrio deviazione di Bagaric salva Vecirovic poi gran guizzo di Cisei nel traffico stoppato in stereofonia da Lorbeck e Bagaric Stefansson prende a suo dire un altro sfondamento non è l'idea di Tola e mi sembra l'idea giusta stavolta è fallo dell'islandese la Climamio comincia a giocare a livello di linguaggio del corpo da Climamio comunque anche qui Stefansson vicino quasi più sfondamento preso questo di quello di prima occhio anche secondo me in questo caso era più sfondamento di prima però voglio sottolineare un'altra cosa una cosa che non è facile da vedere nell'azione precedente i due lunghi della Climamio e cioè Lorbeck e Bagaric hanno fatto una cosa molto molto intelligente ha perso il rimbalzo Sisei ha voluto andare a tirare contro di loro stranamente per un lungo non hanno abbassato le braccia semplicemente sono rimasti con le braccia alzate e hanno impedito un tiro a Sisei questa è una cosa che normalmente un lungo non fa sono stati bravissimi in questo caso a farlo rivisto da dietro secondo me è fallo di Stefansson sia pure di pochissimo ma è una situazione abbastanza analoga a quella precedente Stefansson ha perfezionato all'ultimo momento la posizione che ovviamente non si può fare anche se ti sposti di un solo millimetro problema per Piero Bucchi quarto fallo per Stefansson 54 secondi e 4 decimi da giocare per chiudere il terzo quarto adesso è veramente complessa la situazione per la Carpisa gli avversari sono in rimonta rimessa rivedibile che Bagaric contribuisce comunque a far mantenere in possesso della sua formazione blocco di Lorbeck per Rombaldoni doppio uscite per Beccirovic e Garris abulso dalla manovra offensiva della Chimamio finora in questa partita Beccirovic è pressato da Morandé cerca di andargli via passo di incrocio non ci credo cosa ha fatto Sani Beccirovic mamma mia guarda io questa la voglia rivedere lo diciamo subito devastante Sani Boy o Sani Man che sia in questo terzo quarto offensivamente anche se ha subito il supibile da parte di Greer Rocca vorrebbe provare il suo gancio rischia di frazione di passi di pura voglia di pura determinazione di puro mestiere mette due punti che fanno uscire la Carpisa dalle secche poi il fallo speso da parte di Spinelli e signori questo è fallo antisportivo secondo la lettera del regolamento è ovvio che è un fallo che viene fatto tatticamente perché c'è un fallo da spendere però se vale solo la lettera allora questo è antisportivo questo invece è poesia è un distico elegiaco è un endecasilabo è qualcosa di troppo troppo bello ultimo tiro del quarto lo prende ancora Becirovic per fortuna perché altrimenti ci sarebbe stato da andare via almeno questo non lo segna terzo quarto ancora bellissimo con grandi giocate singole e con grande gioco di squadra 6-5-5-6 vantaggio per i padroni di casa da una parte 22 per Link Rear dall'altra 11 conditi da 10 rimbalzi per Travis Watson vantaggio per la Carpisa sulla Clima Mio un vantaggio maturato soprattutto grazie alla grande accelerazione del primo quarto e dicevamo nel primo quarto è molto facile che quel vantaggio permetta a Bucchi di fare delle rotazioni del personale che potranno pagare dei dividenti nel quarto periodo adesso arriva il quarto periodo vediamo se arrivano anche le cedole vediamo se Bucchi ha effettivamente fatto bene a dar spazio anche alle seconde linee va detto che 9 punti sono nulla 10 minuti da giocare Guerris con Bellinelli Bagaric Lorbe che è il positivissimo Rombaldoni di questa sera per Repesha c'è la Ranaga con Spinelli Rocca Sisei e Morandè dà molto spazio alla sua panchina a Piero Bucchi Bellinelli tiro impossibile e fa Versaglio questo è un sottomano ganciato un gancio sottomanato stiamo assistendo a delle azioni d'attacco di pura follia di sinistro Bellinelli talento puro la Ranaga per Morandè dentro per Rocca che alza la parabola sull'aiuto di Lorbe che va a bersaglio bel canestro da parte di Mason Rocca due canestri preziosissimi quelli dell'ex giocatore di Princeton che adesso deve accoppiarsi con Dalibor Bagaric ecco la difesa che è la sua grande specialità e non solo nel basket Rombaldoni schiaccia per terra per Lorbe che arriva il fisco di Seghetti in frazione di tre secondi a togliere la palla dalle mani della Chimamio guardate Bellinelli dentro di sinistro sbracciata mezzo Erving mezzo Curving tutto Bellinelli e mezzo fallo vogliamo aggiungerci tre quarti di fallo un cocktail stupendo il Bellinelli Tonic veramente una meraviglia ecco Rocca ancora alla ricerca del suo gancio che non arriva gli sta chiudendo molto bene lo spazio per il gancio la difesa della fortitudo e questo è chiaramente frutto del lavoro di Repesha che prepara molto la partita sulle caratteristiche individuali degli avversari un po' meno magari rispetto a qualcun altro sulle caratteristiche tattiche di squadra Rombaldoni finta dentro per Lorbe bene per Bagaric livello di pallacanestro notevole la Climamio ha ritrovato in pieno la giusta rotazione della palla in attacco abbiamo visto anche questa azione cinque passaggi Bagaric sotto canestro palleggio per Spinelli ultimi dieci secondi dell'azione ancora una volta un'azione segnata da molti palleggi quella della Carpisa è un tiro forzato quello di Spinelli la Ranaga contro Lorbeck che gli strappa letteralmente il pallone ed è un attacco fondamentale per la Climamio a otto minuti dal termine con sette punti da recuperare Garris dentro per Lorbeck si trova sul cambio la Ranaga contro di lui decide di spendere un fallo un possibile risolutore della situazione potrebbe essere Garris che finora ha giocato per i compagni un tiro dal campo e tre punti tutti dalla lunetta per adesso comunque ha fatto un ottimo lavoro in difesa sta rientrando Greer credo che dovrà passare sotto le grifie di Garris un grande terzo quarto per le squadre abbiamo detto e per i solisti tra questi solisti menzione d'onore in attacco per Sani Becirovic canestro difficile in corsa canestro dal palleggio di sinistro nel traffico difficile e questi sono i due più facili che ha segnato nel terzo quarto qui c'è tutta la sua inventiva c'è tutta la sua capacità di piede perno giocatore con mezzi fisici normali ma con un senso del ritmo assolutamente da giocatore del racker ha una dolcezza nelle mani un tocco l'abbiamo visto in questi canestri che ripeto anche se sono vicini a canestro sono tiri difficilissimi l'unica cosa incomprensibile ha sbagliato tre tiri che normalmente mette con gli occhi chiusi e le mani legate stasera si vede che ha voglia di fare cose difficili e di sicuro le ha fatte 7.55 al termine dopo il time out Pietro Colnago bisogna muovere di più la palla in attacco ha detto Bucchi perché siamo troppo fermi e quindi siamo troppo prevedibili in difesa non dobbiamo più concedere nessun rimbalzo offensivo e non si cambia mai sul pick and roll eccolo il tiro da parte di Rombaldoni e Rombaldoni sta giocando una partita di assoluta sostanza oltretutto un giocatore che quando prende fiducia è difficile da fermare chiedete agli argentini per esempio nella finale olimpica lì andò in doppia cifra con 11 punti qui è vicino alla doppia cifra con 8 e va anche a recuperare il pallone che poi viene deviato oltre all'area di fondo da parte di Mason Roca certo non un momento facile per la Carpisa per nulla facile voglio sottolineare questa difesa di Rombaldoni Morandè probabilmente pensava di avere a che fare con due gemelli perché si girava da una parte e lo vedeva lì si girava dall'altra era ancora lì corna laterali è il gioco base dell'attacco della Climamio l'ultima uscita è quella di Bellinelli che attacca Morandè Morandè ci mette una mano e il recupero viene perfezionato da Mason Roca Morandè può aver fatto la giocata più importante oltre a quella più spettacolare della partita con questo gran lavoro difensivo di gambe contro Bellinelli le possibilità del giocatore francese sono letteralmente infinite Garris usa le mani malamente questo è un eccellente fischio di Tola fin dall'inizio Garris aveva addirittura preso la maglia dell'avversario per cercare di portarlo dove voleva lui il problema è che anche contro uno molto più potente e più pesante di lui Greer anche tenuto per la maglia va dove vuole lui a proposito di trattenuta per la maglia Bellinelli contro la maglia di Morandè perché vedeva davanti un muro guarda ne stiamo veramente vedendo di tutti i colori comunque una cosa è certa fermare Greer è abbastanza difficile stasera sia che tu sia un cattivo difensore come Becirovic sia che tu sia un più che decente difensore come Keyway Garris l'end off il passaggio consegnato proprio per l'ingrire Garris con il massimo della concentrazione che riesce ad esprimere picherò il giocato con Rocca da Greer non trova lo scarico lo trova adesso per l'uomo da Princeton che si butta all'interno dell'area e prende il fallo di Travis Watson altra giocata al fieriana da volley volley fortissimamente volley di Mason Richard Rocca grande cuore anche in questa situazione va detto che Watson gli ha fatto capire che non doveva tirare quella palla gli ha praticamente amputato un braccio forse Watson si ricorda la percentuale di Rocca allo scorso anno dalla lunetta 55,7% ma arrivando a questa partita Rocca 17 su 19 decimo miglior tiratore di liberi del nostro campionato prima abbiamo detto difensore eccellente non solo a basket è stato un difensore centrale a Evanston High School si quella Evanston dell'Illinois quella di Dan Peterson anche incluso nella selezione migliore dello Stato in una squadra che ha ancora il record dell'Illinois per aver tenuto a zero per il maggior numero di partite in una stagione a zero nel calcio il proprio avversario Ron Balboni sul lato di Bagaric e chi arriva? il nostro amico Beckenbauer dell'Illinois secondo me l'Inter dovrebbe farci un pensierino su Roca il Milan perché almeno non prende più gol sul calcio da fermo di testa non ne prenderà eccolo lavorare al blocco potrebbe ricevere Greer di quella palè veramente innamorato sa cosa farne come pochi ma ne è innamorato come pochi si lo dicevamo un po' di partite fa per un altro giocatore di Teramo che aveva mangiato il pollo con le mani si suol dire si vede che ha le mani appiccicatice e la palla gli rimane attaccata gran giocata di Roca ma questo è un lavoro di squadra il recupero di Roca e il recupero di Morandè sono chiaramente i momenti più importanti per la Carpisa in questo momento della gara in cui l'attacco si è decisamente fermato anche se rimane 52% la statistica dal campo della squadra di Piero Bucchi Re Pescià con una partita diversa da quella di Varese a Varese la Climamio non ha chiuso quando poteva chiudere 16 a 10 il parziale del primo quarto e poi ha pagato nel quarto quarto qui invece è arrivata con un approccio totalmente sbagliato al primo quarto cerca di recuperare nel quarto quarto di certo non è più la squadra che al trofeo team ma in Supercoppa aveva letteralmente fatto sognare in questo quarto quarto comunque ha imboccato la strada giusta sta difendendo direi bene una cosa che mi aspettavo e che invece non abbiamo visto finora una difesa veramente pressante a tutto campo Bazzani e Alessia Merz Bazzani tifoso numero uno del F Scudata e non da oggi rimessa dalla linea di fondo per la Carpisa blocco di Sisei per la Ranaga molto ben eseguito tiro a colpo quasi sicuro trattandosi di la Ranaga ma sbagliato contropiede immediato per Velinelli ricezione a dir poco plastica non attacca il canestro riapre per Garris che schiera il proprio attacco Rombaldone ricevere Watson pronto all'alto basso con Bagaric si materializza in questo momento buon lavoro di Rocca tiene lontano Bagaric cerca addirittura lo sfondamento Bagaric altissimo ma il tiro è sbagliato fantastico Mason Rocca fantastico abbiamo visto come si difende su un pivot capitolo uno e poi Greer per Sisei che schiaccia e fa esplodere il pala barbuto stavolta la palla l'ha andata via su un aiuto molto prematuro da parte di Travis Watson che è in difficoltà contro un giocatore più rapido di lui il palleggio da parte di Garris lo scarico per Watson ancora alto basso che arriva ancora il duello tra Rocca e Bagaric è la stessa situazione di prima stavolta Bagaric è molto bravo perché fa andare verso il centro Rocca poi cambia direzione subisce il fallo qui vedete che Watson effettivamente è stato prematuro nell'aiuto ma è anche vero che Garris è stato bevuto da Greer manco fosse Becirovic non vorrei dire ma forse i difensori fortitude devono capire che Greer con la mano sinistra è abbastanza pericoloso sì è abbastanza pericoloso anzi è pericolosissimo e anche qui non da oggi fin dall'inizio della sua carriera con Tempol a livello universitario e poi della sua carriera europea con la maglia dello Slash di Vroklav ultimi cinque minuti di questa partita a dir poco palpitante palleggio per Keween Garris il taglio di Nate Green che va a incrociarsi con Becirovic la palla va dentro da Travis Watson ancora cercatissimi lunghi Lorbeck piedi a posto per il tiro da tre solo rete Erase Lorbeck ma io non ho più parole veramente la fortitudo sembra ormai fuori partita e dal cilindro chiti di pesca un canestro da tre di Lorbeck che la tiene assolutamente in partita 3-17 Lorbeck intensi come punti rimbalzi ancora Krir ad attaccare Garris assumere il contatto falloso e Garris non fosse altro che per un fatto di orgoglio adesso ci sta mettendo tutto se stesso non è d'accordo con la decisione arbitrale qui invece dell'alto basso il basso alto che con Lorbeck funziona molto bene anche troppo per i giocatori della Carpisa gran canestro da tre veramente di Lorbeck due blocchi in fine il cosiddetto stagger per Morandé gioca in pick and roll con Sisei che si apre per ricevere prende il tiro da tre lo sbaglia in rimbalza è toccato per un attimo da Rocca ma poi controllato da Kiwan Garris meno 5 e palla per la Climamio che ha tutte le possibilità di riacciuffare questa partita Green dentro per Becirovic da lì può sicuramente punire Grir e infatti va a spendere l'aiuto falloso Sisei perché Becirovic per Green in post passo può essere veramente un rebus irrisolvibile è assolutamente immarcabile l'ha dimostrato anche in questa azione Becirovic comunque anche in questo caso dimostra un talento e un'intelligenza nella fase d'attacco veramente unici in Europa due soli falli per Alessandro Cittadini in questa partita possibile che lo si veda in campo in questo finale Bucchi sta comunque dando spazio a Mason Rocca uomo da quarto periodo se ce n'è uno vicino a Sisei per un quintetto che ovviamente non è enorme per la Carpisa secondo tiro libero per Becirovic anche questo a bersaglio 7-1-6-8 tre sole lunghezze di vantaggio un solo possesso di vantaggio per la Carpisa che era andata anche vicino ai 20 punti di scarto all'inizio della gara Grir può lavorare contro Garris il blocco di Sisei si apre per l'uno contro uno palleggio arresto tiro tre tutti segnati tutti uno più difficile dell'altro questo anche nel momento di massima difficoltà e vogliamo dire che i due che ha sbagliato invece erano facilissimi da tirare palleggio di Garris salto a zona ancora per Piero Bucchi Garris col tiro da tre che è sbagliato a rimbalzo Rocca uno contro due prende un altro pallone pazzesco quarto quarto dei Mason Rocca davvero ovunque a rimbalzo e in difesa anche se statisticamente dei rimbalzi ne ha presi solo due ma sono due che pesano per 10 il blocco di Sisei l'uscita per Grir il piccaro all'alto con lo stesso Rocca attacca Grir alza la parabola gli esce il rimbalzo di Stefansson che può riaprire per Sisei ma invece di forzare un tiro vuole usare il cronometro di 24 secondi grande lucidità di Ion bravissimo guarda che queste sono azioni che fanno capire il vero valore di un giocatore palleggia arresto e tiro di Lynn Grir va ancora sulla palla Stefansson poi la cerca col tuffo pressione di Mason Rocca e Grir viene fermato quella deviazione da dietro fallosa da parte di Grir Grir si butta per terra Chiari rimane vicino a lui quella situazione o decidi di dare tecnico per la platealità della protesta oppure la ignori di certo buttarsi per terra però non è mai una grande idea visto che non siamo al teatro piccolo anche se non fischiare sarebbe stata probabilmente una cosa lecita si però comunque io non posso sono l'ultimo che può parlare in caso di sceneggiate non posso assolutamente parlare quindi mi astengo punta per Nate Green blocco di Lorbeck uscita per Becirovic passaggio mondiale stoppata mondiale di Morandè ancor che fallosa ma cosa fa andar via dal palleggio Becirovic un centesimo di secondo tra palleggio e passaggio a Lorbeck cosa incredibile Morandè peraltro ancora una volta è andato oltre l'attico guardate dove vada e questa è una stoppata presumibilmente pulita come la deviazione precedente di Green Lorbeck sbaglia il primo libro se c'è una giustizia divina questo errore di Lorbeck ci sta perché effettivamente Morandè aveva preso solo la palla ma io voglio soffermarmi ancora una volta sul passaggio di Becirovic palleggio passaggio me l'ho dimenticato prima in mezzo a quattro mani avversarie e se no che gusto ci sarebbe mai palleggio per l'Ingrir che entra nel gioco d'attacco della Carpisa blocco di Sisei per Stefansson Stefansson mette palla per terra va da Morandè palla schiacciata poi per terra per l'Ingrir che riapre per Sisei di tocco per Stefansson dall'angolo dentro e fuori ancora Rocca rimbalzo ma la palla della Climamio con Gerris in contropiede sul meno 4 prende il centro dell'area Gerris segna nel traffico il canestro del meno 2 e che canestro che ha fatto perché è veramente andato in mezzo al traffico in questo caso Greer sta dimostrando però qualche lacuna difensiva lo scarico per Greer che perde la palla né perfezione il recupero nei green la Climamio può andare in parità questo è un fallo antisportivo se sono antisportivi quelli di prima è un fallo comunque speso saggiamente da parte di Mason Rocca anche se è in bonus la Climamio ci saranno due tiri liberi Gerris si fa sentire nel quarto quarto avremo anche il gran finale in volata e che canestro ci sta facendo vedere Gerris in questo caso buttandosi addosso cercando un fallo Greer si è buttato indietro per evitare di farlo nonostante questo Gerris ha fatto un gran canestro 7-3 7-1 il vantaggio per la Carpisa l'uomo da seguire nel finale sarà ovviamente Lee Greer dicevamo non da oggi Greer un uomo che segna segna tanto e segna tenendo la palla in mano queste le immagini della sua memorabile stagione 2003-2004 con la maglia dello Slask di Vroklav 14 partite quelle della prima fase perché causa anche due sconfitte contro la Benetton di Pintis lo Slask non andò alla seconda fase 14 volte in doppia cifra mai meno di 15 mai più di 31 punti 24,2 di media 41% abbondante da 3 più di 7 falli subiti di media 5 assist e mezzo i numeri non sono tutti però ci sono numeri e numeri e soprattutto questo ci fa capire chi giocherà gli ultimi palloni di questa partita per la Carpisa Napoli Carpisa che all'interno dell'area a 10 su 20 contro il 16 su 23 della Clima Mio Carpisa che però ha usato molto bene la zona intermedia quella attorno all'area tra l'area e il territorio dei tre punti con 12 tiri 9 dei quali realizzati dovesse vincere la Carpisa questa sarebbe una chiave importante intanto Green segna il canestro del meno 1 e quale altro sport ti produce una situazione del genere dopo il vantaggio del primo tempo della Carpisa nessuno oltre al basket Green però sbaglia il tiro libero dell'aggancio è una cosa essere meno 1 una cosa essere pari in un momento del genere ha fatto bene Green a sbagliarlo perché così la partita è ancora più bella palleggio di Greer schiaccia per terra per Sisei blocchi in fila per Morandè taglia la Ranaga altro blocco di Sisei l'uscita per Greer può giocare il pick and roll va dall'altra parte ecco il kicky move il tiro forzatissimo è sbagliato brutta selezione di Greer e poi va sulla palla trova una palla 2 Rocca e per il possesso alternato la palla è di Napoli se Rocca non prende questo pallone secondo me questa partita al 90% della prima mio adesso cambia ancora una volta ma rivedendo come ha fatto a prenderla degno di un giocatore di football si è avventato sulla palla non commettendo fallo la palla è ancora di Napoli se così appunto non fosse stato molto probabilmente la clinamia aveva messo le mani sulla partita e il football è l'unica cosa che non ha mai fatto è stato anche un ottimo giocatore di baseball al liceo ma non c'era tempo per un quarto sport assieme a calcio e pallacanestro ultimo minuto della partita in arrivo 7-3 7-2 per la Carpisa ancora Greer con la palla in mano stavolta una situazione con 4 uomini schiacciati verso la linea di fondo lavora dal palleggio Greer arriva Sisei va ancora dall'altra parte Greer forza ancora il tiro ancora il ferro ancora un rimbalzo stavolta di Larranaga per un extra possesso della Carpisa mamma mia che cosa hanno perdonato Rocca e Larranaga all'Ingrir che ancora rimane fermo con la palla in mano e ancora vuole giocare la stessa identica situazione per due volte è andata male alla Carpisa poi viene col rimbalzo anche la terza è un disastro totale e l'Orbeck scatena in velocità in campo aperto Greer stoppato da Moradet poi Pecino mi sbaglia rimbalzo di Sisei e fallo da parte di Green clamorosa clamorosa riclamorosa straclamorosa stoppata di Michel Moradet cosa ha fatto Moradet incredibile Green praticamente aveva già schiacciato la palla dentro il canestro ha preso il tempo perfettamente sembrava un ballerino di tip-tapi passettini per prendere il tempo di Green è andato da dietro e gli ha portato via la palla pazzesco allora adesso io sono il signor Link Rear se per qualsiasi motivo questa partita la vince la Carpisa domani al miglior ristorante di Napoli c'è la cena pagata per il signor Rocca che gli ha tappato la prima falla che aveva aperto il signor Laranaga che gli ha tappato la seconda e il signor Morandet che gli ha tappato la terza perché è raro vedere un giocatore per tre volte incaponirsi in quella maniera per tre volte peggiorare quello che aveva già sbagliato prima e per tre volte essere salvato io direi che dovrebbe comunque pagare una pizza a tutti i suoi compagni di squadra a tutto lo staff tecnico perché non gli hanno tirato uno sberlotto sulla testa perché forse se lo meritava 16 secondi tre decimi al termine la partita non è assolutamente finita anche perché Laclima Mio ha la possibilità di spendere un fallo di mandare in lunetta gli avversari e poi di avere un ultimo possesso comunque con non più di tre punti di svantaggio ma in questo momento la Carpisa non è del bonus e questo paradossalmente gioca quasi contro Laclima Mio che dovrà spendere un fallo prima di mandare in lunetta gli avversari Lecirovic contro la Ranaga fallo che non arriva in maniera abbastanza misteriosa palleggio ancora da parte di Michel Morandè e fallo che arriva in questo momento ma è solamente il quarto di squadra per Laclima Mio giuro che c'è qualcosa che mi sfugge se no non capisco non ti sfugge niente c'è da non capire perché appena la palla è entrata in campo non è stato fatto un fallo adesso abbiamo capito perché sì sì il fallo il bonus c'è invece questo è il mio errore però ugualmente perché fa passare il tempo assolutamente inutile far passare sette secondi così hai solo meno tempo per tornare di là e cercare di segnare oltretutto se adesso Morandè dovesse riuscire a fare due su due gli avversari avrebbero la possibilità di spendere un fallo per non farti prendere il tiro da tre punti la possibile spiegazione è che abbiano scelto Morandè per commettere il fallo però Morandè è un tiratore di liberi più che affidabile le ultime tre stagioni 78 86 e 75% quindi anche questa spiegazione fa un po' acqua e Morandè invece che fare acqua fa due su due adesso la tripla è l'ultima speranza per l'attima mio vediamo se spede un fallo Greer contro Gerrins non lo spede Lorbeck con spazio buonissimo tiro di Lorbeck solo rete pari 75 l'ultima speranza di Stefansson niente da fare overtime tempo supplementare al palo a barbuto è giusto che sia così perché guarda questa partita è così bella che è giusto che vada avanti almeno altri 5 minuti ma guardate qui Lorbeck 2-11 fa una finta come una guardia per tirare un tiro da tre a un secondo dalla fine tutto molto tutto molto giusto tutto molto bello però la Ranaga sulla finta la finta non è un atto di tiro e farai fallo manca un secondo io non sono un tifoso del fallo troppo presto ma a un secondo lasciare un tiro a un tiratore io il concetto l'ho espresso in una maniera se leggete il labiale Valerio Spinelli l'ha espresso in un'altra ma è lo stesso concetto ma la Ranaga tanto quanto ma scusa ma Greer che ha avuto almeno 4 secondi per fare un fallo su Garris almeno a mio modo di vedere forse era giusto farlo lì gli dai due tiri liberi poi devono comunque sbagliarne uno prendere il rimbalzo insomma ce n'è sicuro però la Ranaga era proprio nella posizione ideale perché è uscito e invece di essere battuto subito dal tiro ha visto la finta dell'avversario poteva farlo anche dopo averlo superato addirittura da sottolineare che Lorbeck è stato fenomenale non solo e non tanto perché ha messo il tiro ma perché a un secondo dalla fine ha avuto la freddezza per fare finta far saltare la Ranaga e prenderlo quel tiro infatti la prima cosa che ho detto è stata quanto è stato bravo e freddo Lorbeck comunque col senno di poi sicuramente la Carpisa ha commesso una grossa leggerezza comunque per noi è ancora meglio perché commentiamo cinque minuti di una partita che fino a questo momento è stata bellissima e veramente emozionante e con tutto l'amore assoluto che in senso cestistico mi spinge verso Mason Roca ha sbagliato anche Roca che è andato a raddoppiare Garris in quella situazione non lasci libero nessuno per un tiro da tre rimani uno contro uno per arrivare a cinque contro cinque sempre comunque sempre comunque Mason Roca lo perdono palleggio per Garris primo possesso dell'overtime per la Climamio palla schiacciata per terra dentro per Lorbeck altro movimento debole ha segnato quello prima e sbaglia questo ribalzo di Roca la teoria dice Climamio col morale a mille Carpisa col morale a meno mille ma la teoria in questa partita è stata molto ma molto diversa dalla pratica e non una volta ma tante volte tanto che Morantè segna questo impossibilissimo canestro infatti la teoria dice che questo canestro era veramente impossibile da segnare ma cosa ha fatto Morantè? doppio picchero all'alto per Garris palla nell'angolo per Rombaldoni schiaccia per terra per Lorbeck lavora dal palleggio contro Roca che riapre benissimo per Belinelli tripla di Belinelli che lavoro stavolta di Lorbeck mamma mia guarda una cosa incredibile Belinelli non aveva segnato ancora una tripla quando la va a segnare nel supplementare primo vantaggio della Climamio in questa partita arriva con meno di 4 minuti sul cronometro dell'overtime Roca scarica per la Ranaga che segna buttandosi verso il canestro anche qui grande lucidità di Roca che stava per forzare il tiro apri chiudi la chiamata da parte di Kiwan Garris attacco con due guardie per cercare di cambiare un po' il tema del gioco da parte di Repesha blocco di Lorbeck attacca Micirovic riapre in mezzo tra due compagni tocca messo a Roca che poi viene attaccato da Rombaldoni dentro la palla per Lorbeck Roca ci mette ancora una mano sporca il tiro di Lorbeck monumentale giocata difensiva di Roca che ha tenuto un cambio e poi sporcato il movimento uno contro uno del avversario che non era già più suo va dentro l'ingrir ancora la trattenuta da parte di Garris e Garris ha questa mano abbastanza maliziosa che Gris ovviamente sottolinea uso e consumo degli arbitri va anche detto Garris sicuramente ha commesso una leggerezza difensiva però l'errore è stato anche e soprattutto di Lorbeck che ha aspettato Greer almeno un metro troppo indietro era in mezzo all'area Greer è troppo pericoloso per essere aspettato così lontano dalla palla decimo fallo subito da parte di Lynn Greer Luci e Ombre nella sua partita ma sono 23 punti e bisogna farli partendo da un fisico del genere diventano 24 adesso la Carpisa ha un possesso pieno di vantaggio e ha avuto una grande reazione nel supplementare dopo la tripla di Lorbeck che ha mandato la gara all'overtime ecco lo Lorbeck che riceve lo scarico per Becirovic Becirovic ancora contro Rocca che accetta il cambio non viene attaccato Rocca il tiro è parzialmente deviato e poi Sisei con la deviazione Fischio da parte di Seghetti che vede lontano dalla palla nella fase di salto una spinta di Laranaga dalla reazione di Laranaga direi Gran Fischio decisamente si non ha avuto nemmeno il coraggio di protestare ma guardiamo ancora una volta Lorbeck sta facendo delle cose non importanti importantissime e sta venendo fuori tutto il suo talento nonché il suo cuore 3 su 7 da 2 3 su 5 da 3 è uno di questi tre canestri un po' più importante degli altri 10 rimbalzi 5 falli subiti nel negativo c'è il 3 su 7 da 2 le 4 palle perse e se vogliamo esagerare questo tiro libero in generale la percentuale ai liberi che sale a 3 su 6 in questo momento ma è un possibilissimo MVP della partita in casa Climamio 2 di vantaggio per la Carpisa blocco verticale di Sisei per Morandé che non riceve ancora extra palleggi per Greer alto basso tra Rocca e Sisei che non arriva Rocca si butta dentro e impenta un altro canestro senza equilibrio frutto della sua grande capacità di interpretare i momenti importanti delle partite si riaccoppia con Lorbeck la Ranaga attaccato da Becirovic passo e scarico ma ha messo un piede sulla linea di fondo la Carpisa mi impressiona moltissimo per come ha reagito ma adesso abbiamo rivisto il canestro di Rocca assolutamente imprevedibile anche perché come dicevamo lui tecnicamente non è mostruoso Lorbeck aveva difeso bene ha fatto un cambio di mano in aria tirando con la mano debole è riuscito a far canestro grande reazione di Napoli che in teoria non aveva in mano l'inerzia della partita eccolo qui il canestro in volata letteralmente per Mason Rocca Mason Rocca che attaccante non è mai stato però è sempre stato un giocatore che stagione dopo stagione ha aggiunto qualcosa al suo bagaglio per esempio nella stagione da senior una gara con 4 su 6 da 3 contro Dartmouth con la maglia della sua Princeton a tempo perso si è laureato in ingegneria elettrica a Princeton tutto sommato non è esattamente con tutto il rispetto come fare alla scuola a radio e lettere no decisamente no è un tantino più difficile ma la sua intelligenza appunto nell'ottenere una laurea così prestigiosa la fa vedere anche sul campo perché sta facendo delle cose molto sensate questa l'ultima che abbiamo visto è solo la ciliegina sulla torta di una partita monumentale pressione per l'attima mio dopo il time out con Bellinelli in punta sempre tre piccoli puri per Repesha Garris Bellinelli e Rombaldoni e poi c'è Becirovic quindi quattro piccoli più Erasem Lorbeck quintetto esageratamente perimetrale per la fortitudo ultimi due minuti del primo overtime la Ranaga dal palleggio contro l'ingrier che vuole spazio per attaccare tre secondi per tirare due sarà un altro tiro forzato di Ingrir e no e no e no questa non vale questa non vale proprio questa è illegalità lo stato puro ne fa un altro così giuro io mi alzo e me ne vado palleggio di Garris lontano dalla palla il fallo di Larra Naga ero già pronto a dire infrazione di 24 secondi per l'ingrier e la carpisa salta e prima di venire giù in controtempo in maniera secondo me regolare Repesha chiedeva un'infrazione di passi o no in maniera regolare ma è pazzesco è pazzesco allora ha fatto questa penetrazione voleva tirare ha trovato la difesa davanti è tornato giù col pallone a quel punto voleva passarla non c'era assolutamente nessuno se non l'arbitro e quello che pulisce il campo la buttata verso l'alto ferro ferro tabellone canestro vabbè alla prossima ho detto me ne vado ha decisamente stravito Larra Naga fuori per raggiunto limite di falli torna Stefansson per Piero Bucchi Beccirovic 2 su 2 di prammatica dalla lunetta se tanto mi da tanto non abbiamo ancora visto tutto quello che di spettacolare e di emozionante questa partita ha da esprimere palleggio per Link Rear ultimi 90 secondi del primo prolungamento Sisei pronto a bloccare per Morandè ecco il suo sprint per ricevere il passaggio consegnato schiaccia per terra per Sisei ancora da fermo contro Lorbeck partenza con infrazione di passi buon fischio di Seghetti ve l'ho detto che è ancora questa partita da dire delle cose non avevo nessun dubbio ed è giusto che sia così vogliamo fare un gran complimento questa è una chiamata super da parte di Seghetti anche perché in un momento del genere con la pressione di Lorbeck anche di passi millimetri che va chiamata alto basso Lorbeck per Bagaric applausi a scena aperta per questo attacco della clima mio tutto fatto molto bene meno 2 adesso per i campioni d'Italia ultimo minuto della partita in arrivo se si chiuderà dopo questo primo overtime palleggio di Link Greer Greer contro l'aiuto di Lorbeck schiaccia per terra per Rocca da fermo contro Bagaric passaggio a seguire per se stesso e poi ideona di Bagaric che lo manda in lunetta beh ma se sei 2.16 però in quella situazione io aspetterei di vedere come fa Rocca tirare oddio Rocca oggi ha fatto delle cose probabilmente usciva vittorioso anche da quella situazione va detto che effettivamente l'avevamo detto all'azione prima avevate fatto una cosa molto intelligente Lorbeck e Bagaric siete rimasti con le braccia alte dovevate farlo anche in questa situazione va detto che Rocca ha sbagliato il tiro libero possenno di poi è un'azione giustificabile io credo a priori invece no adesso è giustificabilissima perché Rocca ritorna il vecchio Rocca dalla lunetta sbaglia due tiri e la Clima Mio si trova addirittura con la palla eventualmente del sorpasso con un gioco da 3 punti nelle mani Garris in pick and roll aiuto recupero da parte di Cisei altro pick and roll con Lorbeck buono sprint di Cisei bella palla Bellinelli di tocco ancora per Lorbeck Cisei si stacca ma come fa a staccarsi da Lorbeck che ha mandato questa gara all'overtime sorpasso per la Clima Mio 8-6 8-5 ancora emozioni infinite Greer dal palleggio attacca Garris deve riaprire per Morandè partenza al limite dei passi tiro impossibile per l'ennesima volta lo diciamo stavolta è impossibile davvero Bagarici in lunetta anche lui non è ancora tiratore di liberi a 11 secondi e un decimo dal termine altro brutto attacco Carpisa qui brutta difesa di Cisei ma Ansu o Enzo come lo chiamavano a Roseto ma dove vai? effettivamente è un errore di un giocatore che secondo me non ha proprio ben chiaro il concetto della difesa soprattutto in momenti come questo è l'azione più importante della partita Lorbeck ha fatto un canestro importantissimo da tre lo lasci libero? sai che Lorbeck non è scarsissimo? no secondo me no però il guaio è che Enzo Cisei secondo me non lo sa tiri liberi per Bagaric Bagaric come detto non uno specialista della materia nelle ultime tre stagioni non è mai arrivato oltre il 60% continua la linea di tendenza spaglia il primo non avrà comunque più di due punti di vantaggio la Clima Mio da difendere nell'ultima azione con 11 secondi e un decimo Bagaric perfetto nella seconda esecuzione 8-7 8-5 Clima Mio palla delle mani Tilly in Greer 7-6 possibilità con un tiro da tre di provare a vincere la partita dentro per Cittadini attenzione perché questa è una decisione fondamentale canestro che non è stato ancora convalidato o meno dagli arbitri che dicono è tutto successo prima è solo un fallo da due tiri liberi e Chiari dice prima ma prima vuol dire quello che vuol dire qui andiamo a rivedere la giocata precedente da parte di Erasem Lorbeck ma ovviamente la curiosità è per quello che è successo qui bella palla di Greer dentro per Cittadini Cittadini con il tiro arriva la stoppata di Bagaric che effettivamente a vederla così è più contemporanea al fischio di quello che si possa pensare i due tiri liberi nascono dal bonus per la Carpisa Cittadini segna il primo Cittadini nelle ultime tre stagioni 80 ma anche 61 e 64 ai liberi in percentuale secondo tiro libero in cui c'è tutta la partita con un secondo e otto decimi sul cronometro Cittadini è fortito Dino a bersaglio 87 pari ruba Greer arresto sulla Silvana sulla Silvana Lee Greer la tripla per la vittoria la più incredibile delle azioni cardeologo della famiglia Maione già in preallarme questa è una partita che comunque rimane nella mini storia del basket italiano non solo di questa stagione come poteva finire se non con due su due ai liberi di Cittadini con tutta la pressione addosso e rubata e tripla per il signor Lee Greer ma guarda che roba è cosa ma guarda è la giusta fine di una partita assolutamente incredibile la più bella della stagione in assoluto e credo che lo rimarrà molto probabilmente fino alla fine guardate qua Lee Greer aveva sbagliato l'impossibile durante i tempi regolamentari va a rubare una palla segna questo canestro da tre per il tripudio di una città che pare abbia vinto uno scudetto più che una partita fantastica giocata di Lee Greer che ha letto la situazione e poi è una partita grazie a tutti grazie a tutti